Ciao! Davvero dobbiamo meritarsi tutto? Penso che la nostra società è davvero basata su questo concetto e forse non fa quello così tanto bene a noi. E Gesù vuole insegnare a noi qualcosa altro basando sul completamente altro rapporto, quello che conosciamo dall'inizio della nostra vita perché quando nascemo sulla terra non abbiamo meritato davvero nulla ma i genitori prendono cura di noi e danno a noi tutto che abbiamo bisogno. E poi scordiamo questo e inizia il processo in quale dobbiamo qualcosa fare e poi ricevere. Gesù fa vedere a noi qualcosa altro, fa vedere che in modo che quando siamo bisognosi perché siamo dipendenti dal peccato che siamo caduti, siamo come questo bimbo piccino che ha bisogno in avanzo l'amore, ha bisogno in avanzo la fiducia, bisogna questo tutto che ha ricevuto gratis. La grazia del Signore, il suo amore è gratis. Questo non costa nulla. Questo è sempre va verso noi prima. E quella cosa va insegnata, presa dal cuore perché non è qualcosa che vivendo nella società prendiamo come normale. Dobbiamo tornare indietro in questi primi momenti della nostra vita per capire come profondamente importante è per noi. Grazie.